bene abbiamo il video del consiglio pubblicitario del studio di Tlg la televisione Tata è una bella televisione con il suo telegiornale e il nostro istituto da Esa a San Z ma mentre una telefonata l'abbiamo subito non sia anche il chirurgo e teniamo chiesto, è pronto? Pronto Alfredo? Sì C'è Bacchigio Chi è Sese? Bacchigio Sene C'è Bacchigio Sene C'è Bacchigio Sene C'è Bacchigio Sene C'è Bacchigio Sene e non mi telefonate Eh beh sì eh un intanto ma fare abitudine di comunicare va bene ehi ehi chiedo salutare a Peppe Massaio e a tu un amico e io sono insomma un amico eh non ha proprio il conto però veda veda tranquillo non ti spaventi mi pare che devi scantare i tu pure i tuoi su DSS che hai? su DSS su DSS eh su DSS su DSS su DSS su DSS su DSS su Sette e sotto mi sento pure il massaglio è di alisca mi deve cantare testone pure e testone pure mi deve aiutare i suoi tempi mi deve aiutare è solo tre dia veramente le cose di beneficenza per il gusto terremotato bisogna giocare vittime il massaglio si esatto è beneficenza e adesso su 6 su 7 e sotto su 6 buscan ehi li hanno a riscoltare i tuoi amici gli altri sono ascoltati ti sono salutati va bene va bene saluto a tutti e adesso saluto a te grazie ciao carissimo ciao 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 peł' nato questo cosa bella è veramente per il beneficenza per il bruno per il monumento senza letto, senza nulla e sono terremotato, però bisogna andare a fare questa beneficenza e devo fare un altro saluto veramente a Senuri a uno rettore, uno peritico non era peritico, rettore, bye bye questo rettore è Dottore Masia e gli ha fatto un augurio al Dego con tutta la televisione che ha fatto 20 rimbannoso le sacerdote, bravissimo veramente, lo conosco bene guarda che si ha detto, non deve parlare è la P2 e lo saluto chiaramente a Isu e tutta la compagnia che veste a Senuri è una idamanna, veramente bravissimo e lui è bene e di fatto lo saluto al Dego intanto ha trent'anni ed è venuto accanto di Cristo invece questo è una cosa diversa bene, appena di tutto che devi andare e vi dico tanto di saluto a tutti non mi ne devi dimenticare neanche uno capite, mi lancio un uomo e io saluto a tutti a Manno e a Minore andiamo sempre davanti carissimo sono stati fatti con questa bella albocca, eh? e come te non fai io devi chiarire come funziona il canto del re però che te lo fai tu? San Nuoressa e facciamo una Nuoressa dedicata a tutto il suo bonitrio ammettato per sempre che come siamo in diretta a mezzanotte per questa repica e stanotte che la Manzana, San Nuo e Quarto un'altra repica e c'è sempre che viene a gioia e chiede sempre così capite? c'è una cosa bella qui che i neri non hanno in occhio non si può tornare con una cantone solo no devi cantare su che e se un bravissimo chiamatelo veramente che puoi fare una bella serata San Nuoressa a lei che le coro via che si assicERE che le coro via che le coro via chiamatelo mi schiena di sattomità mette a te mamà A tos distante amore E a mischidà e jatonicamente a te maras momentos che mi nasce E sal ferita mi mia, che di no le doy doy me Mamentos che mi nastri Grazie a tutti. 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 a tutti.